Ruben Lopinto, Federico Bossi, Liga Navale Italiana di Mandello Dell'Ario, giusto? Terzo posto a questa Coppa Italia qui a Trieste, le vostre sensazioni, il bilancio, com'è andata? Un bilancio positivo, molto positivo, abbiamo fatto quattro prove in tre giorni, un po' poche, però ci può stare perché siamo stati un po' sfortunati con le condizioni, però comunque abbiamo fatto quattro prove più o meno, tutte e quattro bene, una un po' male, però erano anche condizioni abbastanza particolari, quindi niente, un bilancio super positivo, siamo felicissimi. Quindi diciamo la stagione è nel target, state facendo quello che prevedevate, cosa è successo fino adesso e cosa vi ripromettete per il gran finale con Senigallia e poi chissà? Sì, sì, è nel target, anche perché dopo Formia, che hanno lasciato qualche punto, dopo i BFD che avevano preso, dovevano avere una conferma del stato di forma, dopo esserci allenati tanto durante l'inverno, no, siamo soddisfatti. Quindi un inverno di allenamento è stato, eh? Sì, un inverno di allenamento, per preparare appunto queste nazionali in vista dei mondiali europei. Beh, insomma, sta pagando questa cosa. Sentite, l'ultima domanda è il campo di regata di Trieste. Era la prima volta che venivate a Trieste? A Trieste in questo circolo sì, per me sì. Molto difficile, soprattutto le prime due prove, una borra che saltava di direzione, di intensità. Dovevi stare sempre nella fase, sempre nella raffica ed era difficile anche, diciamo, anticiparla e tutto. Quindi tutto sommato però è stato bello, è un bel campo. E niente. Bisogna essere velisti completi. Esatto. Grazie ragazzi, a presto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.